Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Toukens e benvenuti in un nuovo video guida di Fortnite. In questo video andiamo a vedere come portare a termine la sfida che ci chiede di raccogliere bombolette e spray nei depositi di moli molesti o nei garage di parco pacifico. Come sempre ragazzi vi ricordo di lasciare un bel like se questo video vi sarà utile ed un commento con l'hashtag salutami se nei prossimi video guida volete essere salutati. A proposito in questo video saluto Cristian Cosentino, Elme, Alfio Oliva, Salvo SL16, Capitano Matti e Mario Longo che mi hanno chiesto nei precedenti video. Vi ricordo inoltre che tutti lunedì, martedì e mercoledì dalle 21.30 in poi sono in live sul canale Viola, il link lo potete trovare qui sotto nella descrizione. Quindi se volete giocare e divertirvi insieme a me vi aspetto in live. Come ultima cosa se i miei video vi sono utili per avanzare di livello all'interno del pass battaglia e mi volete supportare potete farlo inserendo all'interno dello shop il codice creatore Toukens. Se l'acquisto me lo taggerete tra le storie di Instagram io lo farò vedere all'interno dei prossimi video. Quindi amici non ci dilunghiamo ulteriormente ed andiamo a vedere come fare per portare a termine la sfida. Per completarla vi consiglio di andare a Moli Molesti in quanto qui potrete trovare tutte e due le bombolette. La prima si trova dentro questo deposito. Mentre per la seconda dovremo andare nell'edificio che è sul molo. Anche qui una volta entrati potremo trovare subito la bomboletta. Quindi amici spero che questo video vi sia stato utile. Come detto all'inizio lasciate un bel pollicione in su, condividetelo e iscrivetevi al canale. Per questo video è tutto. Come sempre vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo.